ciao oggi è il 21 maggio ieri abbiamo fatto la visita in campo qui a piccola terra ma ci siamo accorti che non vi abbiamo fatto vedere le coltivazioni della serra quindi ve le facciamo vedere oggi qui con un breve filmato vedete qui abbiamo i cetrioli che sono pronti e a fianco abbiamo le piante di pomodoro di diverse varietà facciamo arrampicare su questi fili sorretti da questa struttura non sono ancora pronti cominciano a maturare mentre qui abbiamo le patate quelle che abbiamo seminato il 14 marzo abbiamo fatto un video potete trovarlo appunto nel nostro sito nel canale youtube mi sembra si chiami semina patate novelle il titolo infatti sono patate che venderemo come novelle qui a giugno vediamo se sono pronte dobbiamo prenderne una ecco qua la buccia è molto fina non è ancora pronta questa mia mangio io stasera è buonissima comunque e fra qualche settimana saranno disponibili bene salutiamo ci vediamo il prossimo video